Come è il trattamento dei tumori della prostata? Noi oggi possiamo agire nella fase localizzata di malattia con la chirurgia, la radioterapia che può essere associata o meno a trattamento ormonale. Nelle fasi più avanzate abbiamo una serie di trattamenti, quando la malattia una volta eliminata con l'intervento chirurgico o la radioterapia si dovesse ripresentare, abbiamo una serie di trattamenti basati sull'utilizzo di nuove molecole ormonali e sulla chemioterapia.